Nei giorni scorsi ha circolato con insistenza un rumor che voleva Ricochet presto fuori dalla WWE, non avendo prolungato il contratto che lo lega alla federazione. Io sentendo un po' puzza di bruciato queste cose qui ho preferito non riportarvele e il wrestler peraltro già da ieri sui social ha fermamente smentito il tutto, cosa fatta anche oggi dal Wrestling Observer, dalla parte in stile newsletter, quella su abbonamento, le cui informazioni parlano invece di un Ricochet legato alla compagnia dei McMahon sino all'estate del 2024 dopo un rinnovo contrattuale targato 2019 in epoca pre-Covid. Dunque, seguendo ciò che ha scritto il combattente e dando credito al Wrestling Observer, era effettivamente una bufala. Restano invece invariati, quelli sì, i dubbi sul futuro narrativo dell'atleta che dopo aver perso in meno di due minuti a Super Showdown 2020 contro Brock Lesnar in Arabia Saudita è finito in una spirale molto negativa di risultati e ai margini delle vicende più importanti del suo roster d'appartenenza. E a questo punto vi chiedo, il 2021 per Ricochet sarà l'anno della rinascita, della riscossa oppure scivolerà sempre più nelle retrovie? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A inizietàone piuttosto è fatto dire che spirito della rinascita, della riscossa oppure scivolerà sono conc Soziali. Grazie.